ciao ragazze e benvenuti o bentornate nel canale ed eccoci con la seconda e ultima parte di questo decluttering 2022 vi anticipo già che nella prima parte c'è stato un decluttering un po' più sostanzioso di questo in quest'ultima parte praticamente vi mostrerò direttamente nella scatola ciò che andrò a regalare per lo più alla mia amica inoltre se vi siete versi la prima parte vi rimando alla prima parte andate nella mia playlist che si chiama i miei tag e lì vedete tutti tutti i miei tag fatti finora e niente prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella lasciatemi tanti like di supporto al canale e se vi va nei commenti fatemi sapere se voi avete fatto anche un decluttering se insomma se io sono stata brava oppure no potevo fare di meglio chi lo sa niente fatemi sapere qualsiasi cosa e io vi mando al video ecco a inoltre dimenticavo che ad oggi gran parte delle cose che ho declutterato nella prima parte nel frattempo le ho già donate quindi non ho più da mostrarvele però nel frattempo insomma l'unica cosa che posso mostrarvi è ad per adesso la situa dei buttati e devo dire ecco un pochino però nemmeno troppe ecco nemmeno più di tanto quindi mi ritengo insomma soddisfatta nel non dover buttare così tante cose le prime cose che vi mostro però queste le regalo a mami è questo pennello in realtà era da fondotinta del lavon però io lo utilizzavo tantissimo per settare il contorno occhi mi ci trovavo bene però ad oggi è un pennello vecchiotto ecco voglia di provare cose nuove idem anche questo di essence per l'applicazione degli ombretti ha praticamente delle setole aperte vedo se lo vuole mamma tanto lei non ha tante pretesse nell'ombretto e poi c'è anche questo duo di uscito con la naked it di urban decay addirittura il nome si è cancellato talmente delle volte che l'ho utilizzato anche questo alle setole aperte ma questo non mi è mai piaciuto più di tanto perché è duro non è per nulla morbido quindi sono contenta di ecco darlo darlo via ok adesso eccoci qua con questa scatola di huda beauty in realtà era il calendario dell'avvento dello scorso anno ci ho tolto tutte le scatoli le scatoline in cartone e ottenuto questa scatola proprio perché molto bella anche da esposizione secondo me e e all'interno ci ho messo i prodotti che vado che ho intenzione ecco di regalare alla mia amica acqua micellare della botanica questo è un brand marchio molto low cost io lo trovo all'emd e all'inizio l'acquistavo però adesso avendo una pelle molto più sensibile e reattiva trovo che insomma questo prodotto sia un po' pesantino per la mia pelle e anche quest'altro questo è uno struccante bifasico della stessa linea stesso brand anche lui molto low cost lo trova anche lui all'emd di questo ci ho fatto tantissime scorte in vita cioè ne ho acquistata quintali questo infatti l'avevo anche iniziato però da quando ho provato questo di chico questo di chico mi piace molto di più tant'è che sto per terminarlo cioè vi ho detto tutto mentre questo ecco lo preferisco meno perché strucca bene però ecco lascia troppo untuoso sulla pelle e quindi io non amo molto ecco questa sensazione sulla pelle poi un prodotto questo non so se la mia amica li utilizza vedo se li utilizza altrimenti li butto però da un lato mi dispiace perché praticamente è nuovo all'inizio facevo della scorta sono delle strisce depilatorie per il viso anche queste appunto del brand md che appunto costano pochissimo però non fanno per me in quanto io non essendo estetista ecco mi risulta difficile utilizzarle perché le vado a strappare più e più volte poi procurandomi delle lesioni e brufoletti insomma sul baffetto ecco quindi è proprio un prodotto che non fa per me infatti sono tornata al classico rasoietto per il viso poi un prodotto queste di wicon uno spray tattoo gold per chi non lo sapesse io faccio la scheda punti da wicon e lì a quanto ho capito tot spesa vi regalano qualcosa e spesso però le commesse fanno di testa loro non chiedendomi cosa volessi io e mi regalano cose a casaccio oppure cose che non vendono invendibili secondo me come questo che è uno spray tattoo temporaneo in colore oro cioè io adesso vorrei dire chi è che utilizza mai una cosa del genere questo infatti è nuovissimo non lo apro è nuovissimo oltretutto non mi hanno dato nemmeno degli sticker degli stencil insomma per poter fare questi tatuaggi e questo lo regalo alla mia amica perché lei ha una nipotina piccola magari si può divertire lei I don't know altro di wicon che vado a regalare ma giuro non ho nulla contro wicon è questa sorta di pulisci pennelli che va inserito così con le dita e questo anche ve l'ho detto e ridetto più volte mi sembra che lo misi anche in un top e flop non mi piace come pulisce pennelli soprattutto i pennelli grandi i pennelli larghi perché è troppo piccolo secondo me e quindi no regalo volentieri a lei regalo questa mini size del primer benefit basta non lo voglio più utilizzare poi questo illuminante viso di makeup revolution nel colore golden lights carino molto carino il colore adesso ve lo mostro molto bello però è una formula che comunque è andata adesso c'è di meglio è molto una formula gessosa non è per nulla sottile sul viso però colore bellissimo poi regalo due pennellini alla mia amica questo per ciglia e sopracciglia che potrebbe sempre essergli utile questo mi è uscito lo acquistai tanti tanti anni fa era un kit praticamente cinese mentre questo è quello che mi è uscito nello scorso anno nel calendario dell'avvento di makeup revolution però ha questa forma strana che sinceramente ho altro di meglio poi questo eyeliner duo di Kiko a doppie punte questa è quella che io utilizzavo più spesso e farò felice la mia amica perché lei utilizza sugli occhi solamente matita nera, eyeliner e mascara le ombretti proprio zero quindi la farò felice poi c'è una serie di rossetti liquidi questo di Maybelline il 135 globe trotter e questo è un colore zuccoso carino è quasi arancione è bello caldo però ho già uno di Too Faced molto molto simile inoltre in edizione limitata e quindi è inutile tenerne due questo del Chocolat l'866 truffa mania anche questo è proprio un color cioccolato anche questo molto bello ma mi sono resa conto di utilizzare poco quindi vedo lei se insomma lo vuole e poi c'è anche un'altra sì, ci sono due Sephora una nel colore 24 e una nella tonalità 04 sembrano simili ma sono un pochino diverse entrambe però sono abbastanza fredde e autunnali quindi secondo me questa vira più al violaceo e l'altra è questa qui comunque sono leggermente diverse e a molte piacciono questa formula delle Sephora a me sinceramente non ha fatto impazzire trovo che su di me non siano non siano granché di a quanto ha durata ecco non durano granché poi per finire altre cose labbra che do questo rossetto metallico di Kiko di una vecchia collezione natalizia io l'ho presi con i saldi e questo bordeaux che non uso mai perché è un colore bordeaux molto molto scuro infatti si chiama Burgundy il colore era della Sparkling Holiday e preferisco per Natale mettere quello di Nabla che è un rosso più freddo e più chiaro di questo poi un rossetto di Essence questa era l'ultimo che avevo tenuto lo 03 che è un nude rosato e infine l'ultimo prodotto labbra è questo NYX trovato nel calendario dell'avvento il famosissimo Roma appunto Roma l'ho trovato nel calendario dell'avvento colore bello ma ecco non mi trovavo molto ad utilizzarlo quindi mi dispiace che questi prodotti vadano a male quindi gli do nuova vita poi gli regalo questo duo occhi dell'ultimissima no ultimissima vabbè della collezione primaverile di Kiko la Blossoming Beauty che per essere sincera non è che mi abbia spettinata questa collezione dove da un lato c'è il classico ombrettino in stick di Kiko che su di me ecco non sono granché belli sui miei occhi e che io però mi ostino ogni volta a comprare perché mi sono lasciata dentare da questo colore lilla che è molto bello però poi su di me che ho una palpe grassa mi vanno tutti nelle pieghette questi in stick almeno della formula di Kiko mentre dall'altra parte abbiamo un Kajal sempre violaceo però è un colore molto freddo molto smorto sinceramente me ne sono pentita sì di aver preso questo prodotto me ne sono pentita tant'è che da quando ho fatto il video recensione non l'ho proprio più utilizzato questo prodotto quindi pentita al massimo mentre l'altro prodotto è l'ombretto liquido uscito sempre nella stessa collezione il colore è bellissimo e particolare però andate a vedere la recensione della Blossoming Beauty perché non mi è piaciuta la formula di questo ombretto il colore è bello ripeto ma sugli occhi proprio non ci siamo poi il campioncino di fondotinta Chanel questo era tra gli ultimi fondi che mi aveva dato Sephora però nella colorazione B30 penso che sia veramente scuro per me visto che la mia amica è molto più scura di me diciamo ha un sottotono molto più caldo poi lei con la bronzatura ciao e quindi gli regalo anche questi campioncini della Make Up For Ever di cui due l'avevo utilizzati in realtà avevo utilizzato il numero uno che era il più chiaro e quello più diciamo un po' più scuretto l'ho dato a Mami e però lei secondo me con la bronzatura può usare benissimamente questa tonalità qui quindi lo do a lei e glielo faccio provare poi raga ultimissima cosa da mostrarvi sono questi pagliette tutte queste cose per fare l'anel art e vedrò se lei le utilizzerà ecco questi li acquistai tutti io quando all'epoca mi facevo le mani da sola adesso non più quindi ecco tutta roba che non mi serve più e non ho intenzione di usare quindi vedo se lei li vuole altrimenti può farci giocare la sua nipote oppure ecco può regalarli ad amiche e parenti quindi niente raga il decluttering 2022 di quest'anno termina qui questi sono tutti quelli prodotti che vado a regalare compresi questi qui dentro e finalmente posso andare a buttare anche tutti questi altri prodotti e niente io vi mando un grosso bacio e sicuramente farò altri video decluttering l'anno prossimo oppure tra qualche mese chissà io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao